Ah, abbiamo detto Quell'amico, basta, quindi posso fare così Metto Cdv7 Metto Questi Adesso uno, due, tre A posto Vai, mettiamo questo Mai Di prima, con special pure Item 10 orb Facciamo 11 5 Vabbè Abbiamo dato abbastanza una merda Vediamo se scendono Miracolosamente Sono solo 5 Cioè Abbiamo dato exteno Lazione Abbiamo Abbiamo No No Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Ok? Ok. 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 Vediamo quale Goku c'è più def L'amico Di poco Ma bu 26 milioni e mezzo No ma ragazzi Lasciate perdere i buffer Non pullate Ma che è successo Bellissimo Che run È stata la run più veloce tra l'altro Vorrei dire Bell Divertente Vabbè ragazzi Domani vedremo il resto Vediamo quella solo con Hit Vediamo Gohan fisico Vediamo Machinbu fisico Machinbu fisico insieme a Buan Bu Cioè Buan senza Ezra vicino a Machinbu Funziona Cioè tank Quindi bu Poi che è rimasto Sono rimasti due GL Pan ce la teniamo come ci regina sulla torta Grazie a tutti.